Papa Francesco, la nuova frontiera della Chiesa nel segno del Vangelo e del Santo di Assisi. E' il tema intorno al quale si sono confrontati l'Arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, il Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Francesco Paolo Casavola, e il filosofo Biagio De Giovanni, nel corso di un incontro promosso a Napoli dalla Fondazione Valenzi. Al centro delle riflessioni l'attenzione alle situazioni di nuova povertà e di disagio sociale legate alla perdurante crisi economica e valoriale, ma anche il rinnovato slancio della solidarietà orizzontale e di vicinanza agli ultimi tracciata dalla pastorale di Papa Francesco. C'è una crisi valoriale e c'è una crisi economica di disoccupazione, di sottooccupazione, di lavoro in nero. Tutto questo poi è il terreno fertile su cui poi possono crescere questi fenomeni che trovano il terreno adatto per fare queste azioni così assurde. Perché non si pensa più al valore della vita, al valore della socialità, al valore della comunità. Si perde il senso della propria dignità e questo poi causa tutti questi fenomeni. Grazie a tutti.